Ristretto Italiano. Le news dal mondo sull'Italia. Martedì 9 luglio, buongiorno. Elezioni francesi concluse con la sorpresa di tutti per come è finita e già a Parigi cominciano a pensare di come tirarsi fuori da questo impasse di una maggioranza che non c'è. Del resto andare a rivotare prima di un anno, come hanno fatto una o più volte, non ricordo bene, gli spagnoli, loro, i francesi, non possono perché la Costituzione glielo vieta all'articolo 12. Chissà allora se potranno fare come gli italiani, cioè nominare un premier tecnico che goda di una fiducia trasversale. Se lo chiede Euractiv in una analisi dal titolo, il governo tecnico in stile Italia in Francia potrebbe incontrare delle difficoltà. Un governo tecnico che di solito è nominato per gestire gli affari finanziari, il recepimento delle norme europee e la rappresentanza del paese a livello internazionale può avere senso in Italia dove il Presidente della Repubblica può solo limitarsi alla nomina di Presidente del Consiglio e Ministri. In Francia molte di queste cose le fa già il Presidente dell'Eliseo, in questo caso Macrone, quindi non c'è tutto questo bisogno di un tecnico per fare quel tipo di cose lì. Poi ogni governo tecnico italiano, noi ne abbiamo avuti quattro, si risponde l'articolo, di volta in volta arriva quando c'è una forte pressione politica esterna, come nel 2011 quando Monti sostituì Berlusconi. In Francia oggi questa pressione, buon per loro, non c'è. E poi, in Francia, conclude l'articolo, gli esperti sarebbero i primi a rifiutare. Non c'è tutta sta voglia di incarico ministeriale da parte di manager o accademici e il forte sentimento antitecnocrati dei francesi non li incoraggerebbe. Di certo, risultato elettorale, quello francese con la Le Pen Terza, che ha sorpreso un po' tutti, a cominciare dallo stesso Mélenchon, ma che più di tutti, come ricorda France Van Catra in un servizio televisivo che ho trovato in rete, un risultato che più di tutti ha sorpreso i media italiani. E io, fra loro, considerando il tenore del podcast che domenica avevo preparato per ieri e per la cui intempestività voglio scusarmi con voi. E proprio sulla melonizzazione dell'Europa, sulla quale riflettevamo ieri, forse esageratamente, visto come si è piazzata la Le Pen, ieri, sempre dalla Francia, c'era l'opinion che faceva parlare lo storico italiano, simpatizzante per la destra, Giordano Bruno Guerri, il quale, in estrema sintesi, ha detto che in Italia siamo molto lontani dal fascismo e da una svolta in stile Orbán. Giorgia Meloni non può essere definita una leader autoritaria e sono soprattutto i suoi stessi elettori a non volere una deriva del genere. Un'altra notizia di politica, una sola, viene dalla rete spagnola Onda Cero e riguarda Salvini. Titolo, la ultradestra di Salvini propone di eliminare l'obbligo di vaccinare i bambini, come famoso cane di Pavlov, che ripete all'infinito i gesti che qualche volta gli hanno portato bene. Altre volte gli è andata meglio di questa volta a Salvini a sostenere l'abolizione dei vaccini. Praticamente, comunque, l'emendamento che ha presentato Borghi della Lega proporrebbe semplicemente di sostituire la parola obbligato il vaccino con raccomandato, che poi non è una sostituzione da poco. Attualmente, ricorda l'articolo spagnolo, in Italia i vaccini obbligatori per i bambini riguardano 12 malattie gravi e gravissime e sono necessari per entrare nelle scuole di infanzia, non alle elementari, in quanto qui si entrerebbe nel campo dell'isoluzione obbligatoria e comunque, vaccinati o non vaccinati, a scuola, alle elementari ci devono andare tutti. L'articolo si conclude ricordando che nemmeno i compagni di coalizione, a cominciare da Forza Italia, lo appoggiano in questa guerra, in questa battaglia. Fuori di politica, allora, il National Geographic dedica un articolo alla scoperta dell'unico birrificio di epoca romana del centro Italia. L'unico scoperto, aggiungerei sommessamente io. Il lavoro è di una equipe di archeologi dell'Università di Macerata e il ritrovamento è avvenuto nel Parco Scavi di Urbs Salvia, nel comune di Urbis Salvia. La villa romana tornata alla luce è di 1600 anni fa. Per gli studiosi, la scoperta di quello che fu senza dubbio un birrificio confermerebbe l'origine gallica della zona. Articolo complesso, interessante, che vi ho linkato nella mail di questa mattina. Fuga dal lago di Como. Concludo con il servizio di World Crunch, una patinata rivista americana che titola Come il turismo di massa ha inghiottito il preziosissimo gioiello del nord Italia. Articolo nato in risposta e sull'onda della protesta contro il comune di Torno sul lago di Como che ha progettato un nuovo complesso turistico con alberghi, ristoranti, centri benessere, darsene, private, parcheggi, discoteche su un'area di 29.000 metri quadri. E' come continuare a versare acqua in un bicchiere già pieno, commenta la rivista. Oltretutto un bicchiere di cristallo prezioso, se consideriamo la fragilità del territorio su cui questo complesso è stato progettato. I ricchi vanno bene. George Clooney lanciò la moda del lago di Como, ma a tutto c'è un limite. Io qui mi fermo, vi saluto, vi auguro una buona giornata e vi aspetto domani.